Un saluto da Jack Monora. Ancora una sconfitta per la Virtus Bologna, questa volta sul campo del Real Madrid 98-86. Intanto la domanda canonica, perché la Virtus ha perso? È semplicissimo, perché gli altri sono più forti. Non è che possiamo fare poi tutte le volte dei processi, possiamo discutere in alcune situazioni, ma di norma quando la squadra più forte gioca in casa contro una squadra più debole in trasferta, vince. Non a caso i quotisti dicevano Real Madrid vincenti a 1,20 e per com'è andata la partita non hanno sbagliato di una virgola. Detto ciò, per quanto mi riguarda è stata una Virtus dignitosissima per 20 minuti, fino a quando Claiborne ha giocato da Claiborne, ma ha giocato per 20 minuti come spesso capita, a volte gioca male anche i primi 20 e male i secondi 20, quindi non parliamo neanche questa volta, ha fatto 20 minuti in cui ha regalato alcune chicchine nei secondi, indossato nuovamente le pantofole e arrivederci. Però per 20 minuti ha fatto vedere delle belle cose e allora se hai Claiborne che gioca da Claiborne, Schenghelli e Cordinier, che comunque anche sbagliando qualcosa si caricano la squadra sulle loro spalle e la loro parte la fanno sempre, già con quei tre giocatori gli metti una pezza. È chiaro che avresti bisogno di una mano dal reparto esterno. Allora mettiamoci pure che Paiola, che l'ha giocato molto bene col Maccabi, fa fatica in difesa, il cliente è scomodissimo, si chiama Campazzo, e poi viene gravato dai falli. L'altro si chiama Hackett, che a questo punto mi domando se sarà ancora in grado di incidere a certi livelli. Oggi è il terzo play della Virtus, senza se e senza ma, e vorrei ricordare che 12 mesi fa, non 3 anni fa, 5 anni fa, è stato secondo me uno dei primi 3, 4, 5 playmaker dell'Eurolega. A mio modesto parere, e gli auguro di tornare a quello di prima, o anche meglio, ha avuto un crollo devastante in un arco di tempo contenutissimo. Morgan? Morgan è stato il miglior giocatore di Euro Cup, ma l'Eurolega è un altro sport. Non vuol dire che non sa giocare a pallacadestro, vuol dire che essere il migliore di Euro Cup è qualcosa di molto differente. Non è teodosio, ce lo sappiamo tutti, è un giocatore che può dare un contributo, ma non è un primatore, non è una stella, non è un clamoroso difensore, non è un clamoroso tiratore, è uno che fa tante cose, e che probabilmente avrebbe bisogno di fare un apprendistato in Eurolega al fianco anche di un giocatore importante, sì, forse di un teodosic, non di questo Hackett, e forse nemmeno di questo Paiola, che è un cambio secondo me preziosissimo ad alti livelli, ma se è il tuo play titolare, qualche lacuna viene fuori, a suo dato che lo vorrei sempre nella mia squadra. Taker è un giocatore che non ingrana, ha fisico, tutto quello che volete, però io ho detto qualche tempo fa, Banchi deve giocare, Taker non Bellinelli, perché Bellinelli non tiene di gamba in difesa, la Virtus ne prende 98, attenzione, continua dopo la batosta subita da rese. Però capisco anche un allenatore che dice, sì, ho capito che questo salta la gamba, però l'altro fa canestro, l'altro sa giocare meravigliosamente a basket, lui sarà un atleta, ma io faccio fatica a collocarlo. Capisco anche Banchi, il problema è che non c'è un titolare inamovibile e un cambio all'attacker che può fare apprendistato e crescere, ci sono due giocatori che probabilmente in questo momento sarebbero entrambi due cambi, e continuo a dirlo sempre, due palline da tennis non fanno una palla da basket. Non mi è dispensato Zizic, che aveva giocato molto bene con il Maccabi, secondo me la sua pagnotta se l'è portata a casa anche stasera, da sei in pagella come Diuf, e poi vabbè dall'altra parte c'è Tavares e siamo al piano di sopra o se volete nell'attico, e Zizic se non è sottoscalo, piano terra, facciamo che sia un primo piano, ecco. Questa è la sostanza. Poi se volete vi dico anche che se Atene piange Sparta non ride, perché Milano va a perdere a Berlino, e con una Berlino che ha numerose assenze, qualcuno manca anche a Ettore Messina, c'è poi una differenza, che quando ci sono degli infortuni in casa Milano, si bussa alla porta di Armani e lui ti compra dei giocatori. Se ci sono infortuni dall'altra parte, si bussa alla porta dell'infermeria, apre il medico e si chiede quando recuperano. È molto diverso. Per quanto mi concerne, è molto più grave la sconfitta di Milano a Berlino che non la sconfitta della Virtus a Madrid. Però io non vorrei consolarmi con le sconfitte altrui, vorrei gioire con le vittorie della Virtus. Vittorie che non arrivano e che devo essere sincero, non pensavo che arrivassero stasera e che oggettivamente ci sta che non arrivino stasera. Si spera che arrivino in altre occasioni, ma alla regola ci sta anche che tu perda con il Maccabi che è il campione d'Europa, scusate con il Paratinaikos che è il campione d'Europa, non è il Maccabi che tu hai battuto in casa, che pure ha fatto sudare il pane stasera. Quindi, cari amici, prendiamo atto con grande serenità che la Virtus è questa, ha giocato con una squadra che mira a vincere l'Eurolega, mentre la Virtus è una squadra che gioca per provare a dare l'assalto al play e che per me non riuscirà a conquistare, ma questo è un parere personale e spero ovviamente di sbagliarmi. Quindi drammi non ne faccio, prendo atto del fatto che la situazione è questa, non è una squadra che si fa ridere dietro ed è già molto apprezzabile, è una squadra che magari onorerà l'Eurolega, ma è una squadra che palesa dei limiti evidentissimi. Poi con Real emergono in maniera devastante, purtroppo emergono in qualche occasione anche con formazioni molto più deboli. Il problema in questo momento non vi voglio dire che è Banchi, è ovvio che i risultati di Banchi passati nei primi tre mesi dell'anno scorso sono stati estremamente negativi, ma non è che tu mi mandi via Banchi perché mi ha perso con Real Madrid, eventualmente me lo mandi via perché ha perso altre partite, puoi discutere di Varese, puoi discutere magari di altre partite di Eurolega, ma con Real ci sta di perdere in trasferta e ci starà anche di perdere, ve lo ribadisco col pana in casa, bisognerà andare a vincere qualche altra partita, ma poi mentre parli mi pongo una domanda, quali sono le partite che la Virtus può vincere in Eurolega? Purtroppo ho la sensazione che siano pochissime e non so quali.